Volvo XC40 è questo il nome di questo primo SUV di tipo compatto originario della Svezia e che possiamo considerare ad oggi come un mix riuscito in ambito tecnologico sia per quanto riguarda però anche la sicurezza e la eleganza un modello corposo, autonomo, pregiato, un davvero esemplare di macchina di SUV bella da vedere ma soprattutto bella da guidare un look accattivante, proporzioni piuttosto sinuose, un accogliente abitacolo un gradevole colore, una gradevole forma ma soprattutto uno stile minimalista ed anche lineare precisione, mix di tecnologia nordica, eleganza, una vettura amichevole, piacevole, simpatica da vedere e soprattutto da grandi gioie, da grandi sensazioni una Volvo davvero integra nell'animo, una Volvo davvero piacevole, una Volvo davvero pregiata quella che in qualche maniera si può vedere anche nelle foto presenti qua sul web evolve nelle forme la Volvo, evolve nei contenuti, evolve soprattutto in quello che può evolvere un SUV, ripeto, un pezzo di pregio come questo che non può mancare in quelle persone che amano che, diciamo così, trovano il SUV bello nella sua interessa e quindi nella sua essenza bene, la Volvo secondo me ha fatto davvero un ottimo lavoro il video termina qua, un saluto e ricordatevi, ripeto, un esemplare in questione che è Volvo XC40 grazie, saluti e a presto